L'Italia cambia strada con questi stati generali, siamo qui e abbiamo organizzato insieme a tutti gli altri attori, promotori di questo evento, gli stati generali della bicicletta e della mobilità nuova per riunire sotto lo stesso tetto tutti i portatori di interessi per una mobilità alternativa a quella attuale, incentrata sull'automobile e sul trasporto privato per mezzo di mezzi a combustione. Una necessità e un'esigenza che nasce dal basso perché sempre più persone si spostano in bicicletta e sempre più persone decidono di spostarsi non utilizzando l'automobile nelle nostre città e chiedono sicurezza e città disegnate sulle persone e non più sulle automobili, quindi meno morti e più benessere per le nostre città e per i nostri cittadini. Grazie